Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in primo piano, partendo da Palermo, dove la Guardia di Finanza ha beccato e tratto in arresto un corriere della droga, il quale, a bordo di un camion, trasportava ben 47 kg di hashish. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 47 kg di hashish durante un controllo su un autocarro a Palermo. Nel corso dei controlli economici del territorio, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria ha fermato un camion e ha identificato la conducente, il quale, durante l'operazione, si è mostrato agitato e nervoso. Di conseguenza, i militari hanno effettuato un'ispezione approfondita del veicolo, scoprendo, grazie al fiuto del cane antidroga del gruppo pronto impiego di Palermo, 45 pacchi di sostanza stupefacente da un chilo ciascuno nascosti nei longheroni dell'autocarro. Gli involucri erano avvolti da nastro di imballaggio e recavano la scritta Limone 2021. Inoltre, sono stati trovati altri 5 involucri di dimensioni diverse per un peso totale di 2 kg. In totale, sono stati sequestrati 47 kg di hashish. La sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare un guadagno di circa 500 mila euro una volta immessa sul mercato. Il Corriere, un cittadino italiano, è stato arrestato e portato presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo. La Procura della Repubblica Locale ha poi convalidato l'arresto domiciliare. Le forze dell'ordine mantengono un alto livello di vigilanza nei confronti del traffico di stupefacenti, che rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per la criminalità organizzata locale. Restiamo nel Palermitano, ci spostiamo a Misilmeri, dove i carabinieri hanno invece denunciato 5 persone. Sono accusate infatti di aver realizzato una discarica abusiva sugli argini del fiume. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, in collaborazione con i colleghi del Centro Anticrimine Natura di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Merese una donna di 43 anni, rappresentante legale di una ditta di costruzioni di Misilmeri, un palermitano di 58 anni e tre misilmeresi di 42, 49 e 50 anni. Gli indagati devono rispondere dei reati di inquinamento ambientale, gestione e stoccaggio illecito di rifiuti speciali, realizzazione di discarica abusiva di rifiuti speciali, miscelazione di rifiuti, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sui beni paesaggistici, distruzione e deturpamento di beni naturali, danneggiamento di acque pubbliche, lavori vietati su alveo del fiume, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi in aree demaniali e in osservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici. I militari, attraverso un'articolata attività di indagine relativa alle modalità di smaltimento da parte degli inerti ricavati da un cantiere sito a Misilmeri lungo la strada statale 121, sono riusciti a risalire a cinque presunti responsabili, individuando inoltre la discarica, i siti di stoccaggio dei rifiuti e i mezzi utilizzati per il trasporto degli stessi. L'attività delittuosa, che sarebbe stata condotta al fine di ricavare un illecito profitto, ha portato alla creazione di una discarica abusiva sull'alveo del fiume Eleuterio di Misilmeri, i cui argini sono stati pericolosamente modificati con conseguenti rischi di natura idrogeologica per tutta la zona circostante, determinabili dal restringimento dell'alveo e dallo sbarramento del regolare deflusso delle acque. Nel corso dei servizi di osservazione, i carabinieri hanno accertato 21 sversamenti illeciti, documentando inoltre come il fiume è stato oggetto di un massivo smaltimento di rifiuti provenienti da demolizione edilizia, miscelati ad altre tipologie di rifiuti, quali plastica, pneumatici, imballaggi e metalli, con successivo livellamento degli stessi mediante l'utilizzo di una ruspa per una quantità totale di rifiuti sversati pari a circa mille metri cubi. L'inchiesta ha portato al sequestro preventivo di una zona di mille metri quadri circa, autocarri e mezzi meccanici utilizzati per le attività illegali dell'area di cantiere e di un immobile nel quale venivano stoccati i rifiuti in attesa di essere smaltiti illecitamente. Il valore dei beni sequestrati ammonta a un milione e mezzo di euro. A Paceco, nella Trapanese, i carabinieri hanno invece sequestrato un'attività commerciale riconducibile a un esponente della locale famiglia mafiosa. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri di Trapani, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura nei confronti di un pregiudicato già gravato da una sentenza definitiva per associazione mafiosa in cui risultava conclamato il suo ruolo di braccio operativo a disposizione di Cosa Nostra Trapanese. L'esponente mafioso era stato successivamente arrestato dai carabinieri di Trapani con l'operazione Scrigno, perché è ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di Paceco, nonché con l'operazione Espedia dei carabinieri del Ross e di Trapani, che lo scorso settembre lo avevano sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per reati in materia di stupefacenti sempre aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Lo stesso indagato era stato raggiunto anche da ulteriore provvedimento restrittivo per una presunta estorsione aggravata dal metodo mafioso in relazione alla vendita senza incanto di un immobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe gestito a Paceco due attività commerciali di compra e vendita di frutta e verdura, attribuendone fittiziamente la titolarità a propri congiunti al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La formale titolare dell'attività, infatti, secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, dimorava stabilmente in altra città, disinteressandosi completamente della stessa il principale indagato assieme ai congiunti e pertanto accusato di trasferimento fraudolento di valore in concorso e di autoriciclaggio. Durante le operazioni di sequestro, che nella totalità hanno interessato la citata rivendita commerciale con un valore di affari anno di oltre 300 mila euro, sono state anche contestate da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato di Lavoro di Trapani sanzioni amministrative per un importo totale pari a 8.500 euro, poiché, tra l'altro, all'interno della predetta ditta risultava un lavoratore non regolarmente assunto. Ci spostiamo a Vittoria, nel Ragusano, dove la Polizia di Stato ha invece scoperto un vero e proprio laboratorio della droga. Due persone sono finite in manette con gli agenti che hanno anche sequestrato un ingente quantitativo di marijuana. Vediamo il servizio. Nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto due vittoriesi di 65 e 55 anni, entrambi con precedenti penali specifici, per i reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei poliziotti sono state caratterizzate da numerosi servizi di osservazione e pedinamento per un insolito e frequente andirivieni di due pregiudicati da un casolare rurale sito nel territorio di Vittoria, che ha suscitato il sospetto che all'interno potesse essere occultata della sostanza stupefacente. Per tali motivi è stata effettuata una perquisizione che ha permesso di rinvenire, avvilmente occultato all'interno di un sotterraneo del casolare, un vero e proprio laboratorio della droga con 438 piante di cannabis in vaso, del peso complessivo lordo di 147 kg, munito di impianto di ventilazione e illuminazione, costituito ad arte con sofisticate lampade alogene, potenti ventilatori e climatizzatori per accelerare il processo di maturazione ed essiccazione della cannabis, oltre a numerosi prodotti fertilizzanti. In considerazione di quanto rinvenuto, gli agenti hanno proceduto a perquisire anche le abitazioni in città dei due soggetti e all'interno della casa di uno dei due sono stati rinvenuti ulteriori 5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già essiccata e confezionata in buste di cellofan sotto vuoto e pronte per l'accessione, oltre a materiale necessario per il peso e il confezionamento della droga. Dal controllo esterno al casolare è stato appurato anche un allaccio abusivo e diretto a un palo della luce dell'Enel per alimentare la complessa struttura di coltivazione dello stupefacente. In considerazione di quanto rinvenuto, i due pregiudicati, espletate le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ingente quantitativo di stupefacenti, una volta immesso nel mercato illecito, avrebbe fruttato un milione di euro circa. Non si ferma dunque l'attività della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto del fenomeno della produzione e dello spaccio di droga nel territorio vittoriese. Un altro arresto per spaccio di droga è stato invece effettuato dai carabinieri a Catania. Un 29enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della squadra Lupi, del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. È stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio. I militari dell'arma avevano appreso che un individuo con cui avevano già avuto a che fare, adesso sottoposto alla misura alternativa della libertà vigilata con servizi sociali, non solo aveva persistito nella sua attività di spaccio di droga, ma aveva addirittura aspirato a diventare un fornitore di stupefacenti per i suoi colleghi. Dunque i carabinieri hanno organizzato un servizio di sorveglianza discreta per verificare le informazioni raccolte. Nonostante le numerose postazioni di osservazione che coprivano il traffico di droga, i militari sono riusciti ad accedere all'edificio che ospitava la residenza del pusher, situato in viale Biaggio Pecorino, senza attirare l'attenzione. Quando l'uomo, ha visto le forze dell'ordine, ha manifestato evidenti segni di nervosismo, conscio del motivo della loro presenza. Dopo avergli chiesto se avesse droga in casa o nelle vicinanze, non ha pronunciato una parola ma li ha condotti immediatamente al suo garage nel seminterrato del palazzo. Una volta lì ha aperto la sala cinesca e ha estratto una busta di plastica che conteneva 413 grammi di marijuana. Successivamente, sempre accompagnato dai carabinieri, è salito a casa, ha recuperato un bilancino di precisione che teneva nascosto all'interno di una scarpiera sul balcone e lo ha consegnato loro. Durante la perquisizione, i militari hanno anche trovato un'altra bilancia elettronica di precisione. Dopo le procedure di routine, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto. Torniamo sulle recenti elezioni amministrative che hanno certificato il trionfo del centrodestra in Sicilia, mentre si è registrata l'ennesima debacle del fronte progressista. Facciamo il punto nel servizio. In Sicilia, la tornata amministrativa conferma la leadership di Fratelli d'Italia nella coalizione di centrodestra e certifica il flop del fronte progressista con il Movimento 5 Stelle in forte calo un po' ovunque rispetto alle elezioni politiche regionali e il PD senza squilli di tromba. Buona la performance di Forza Italia del dopo Miciche nella parte orientale dell'isola, meno in quella occidentale. DC ed MPA fanno la propria parte, soprattutto nei comuni più piccoli, portando acqua al mulino elettorale. La Lega cresce ai piedi dell'Etna, mentre l'assuccesso di Cateno De Luca a Taormina, per lui è il quarto comune da sindaco, si contrappone col magro bottino delle sue liste sud-chiama-nord, che in molti casi non superano lo sbarramento del 5%. Fratelli d'Italia è l'unico partito a fare l'amplein nelle grandi città al voto, conquistando seggi nei quattro municipi di Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Il Movimento 5 Stelle si salva a Ragusa, mentre stecca a Trapani e Siracusa. Nelle amministrative non abbiamo mai brillato, ma in Sicilia il trend rispetto al risultato nazionale è sicuramente migliore anche in ottica di coalizione. Inutile nasconderlo, il vero vincitore è l'astensionismo, cioè la sconfitta di tutta la politica, ha dichiarato il referente siciliano dei 5 Stelle, Nuccio Di Paola. Fa meglio il PD, sopra l'8% a Catania, 6,16% a Siracusa e 7,34% a Ragusa. A Trapani i Dem, senza simbolo e camuffati nelle liste civiche, hanno contribuito alla vittoria di Giacomo Tranchida, sostenuto anche da dirigenti locali della Lega, anche lei senza simbolo, i cui voti avrebbero permesso a Maurizio Miceli di Fratelli d'Italia di andare al ballottaggio. Cateno De Luca ha stravinto le elezioni diventando sindaco a Taormina. Per noi lo ha intervistato Mauro Romano. Sentiamolo. è una grande responsabilità e soprattutto per quanto mi riguarda è un momento particolare della mia vita che si collega anche come carriera politica a una comunità prestigiosa e sento questa responsabilità maggiore rispetto alle altre occasioni perché anche per quello che è stato il mio modo di amministrare significa fare un salto di qualità ulteriore e cercherò di essere all'altezza del prestigio mondiale di Taormina. Le elezioni europee e quale miglior luogo per affrontare una competizione di questa portata? Taormina anche da questo punto di vista rappresenterà il baricentro di una strategia che assevererà il lavoro fatto in questi mesi tant'è vero che ormai si parla di patto di Taormina nella definizione anche degli accordi con i nostri alleati. Io sogno di fare il sindaco di Sicilia e quindi il presidente della regione siciliana. Questo è il mio obiettivo. Scherzando l'altro giorno un giornalista, un amico mio che lavora nella capitale, mi ha fatto la battuta per Roma. Ho detto chissà, potrei essere anche l'ottavore di Roma. Sono sempre abituato quando mi insedio nei palazzi a fare una veloce radiografia, ovviamente nominare la giunta che oggi nominerò e partire con delle delibere di indirizzo, di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e delle anche partecipate. Il primo atto che bisogna fare è quello di organizzare o riorganizzare gli uffici secondo una propria visione che ovviamente è transitoria per arrivare a quella definitiva. È tutto, ci fermiamo qui, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia.